generale vannacci cita spessissimo la storia e cita spessissimo la lettura della storia e il senso della storia bene se io la saluto e le dico che cosa le viene in mente una simpatica guida generale vannacci con le viene in mente che la storia ci ha imposto che un termine bellissimo è condottiero guida da quando è stata attribuita al cancelliere tedesco è diventato un termine impronunciabile se si accosta ad un leader soprattutto tedesco naturalmente ma in generale è un termine quindi bandito nonostante il nella lingua tedesca significa una cosa bellissima che è guida che è condottiero la storia ha un peso e marchia le parole se lei decide di proclamarsi camerata con tutti i modi in cui un generale un militare può proclamarsi lei sta scegliendo dei termini per ricordare una certa specifica storia questa cosa a me non piace così come non mi piace che tra tutte le cose io che sento che una parte di quella storia non la dobbiamo rivivere perché è stata una parte di storia autoritaria antidemocratica che io la mia famiglia rifiutiamo e che mi piace che la mia nazione aderisca ai valori costituzionali in cui si ci si riconosce prima di tutto come democratici e anti autoritari e quindi antifascisti ma certo che secondo me deve includere quelle che loro chiamano le destre estreme che poi mi devono spiegare che cosa hanno di estremo perché se uno è estremo perché vuole più sicurezza vuole meno immigrazione illegale vuole più ricchezza vuole più identità ma non sono mica concetti da nazisti non sono mica concetti talmente estremi da richiamare le più bui i più bui pagine pagine della storia no sono concetti che sono espressi oltretutto voluti da una buona parte della società civile guardate le elezioni in francia guardatele in germania guardatele in belgio guardatele anche lì in italia dove il governo ne è uscito rafforzato non è non sono azioni violente è quello che la gente vuole e c'è poco da manifestare cioè la manifestazione contro la democrazia fa ridere questa è pura democrazia è l'espressione più alta di quella che è la democrazia il voto dei cittadini e la gente tutti quelli che mi incontrano mi dicono hai ridato speranza alle persone ed è quello che hanno detto esattamente gli intervistati francesi dice sono vent'anni che nessuno risponde a quello che noi vogliamo vogliamo più sicurezza vogliamo fermare l'immigrazione perché l'immigrazione va fermata non può continuare a un certo punto si raggiunge il limite e l'immigrazione influisce sulla sicurezza e questa cosa la sinistra non lo capisce continua a dire porti aperti continua a dire che è un fenomeno che è una fatalità continua a dire che dobbiamo aiutare continua ad appannare la religione dei diritti umani e questo probabilmente una buona fetta dello società non lo tollera più questo è il risultato del voto dal mio punto di vista e fino a che non ci saranno delle risposte concrete continuerà a spostarsi da quella parte perché se le risposte che propongono sono tasse patrimoniali tasse di successione apriamo i confini addirittura ci si sono inventati adesso il migrante climatico l'immigrato climatico il diritto di migrare da un punto di vista climatico come se non bastassero quelli che già ci sono non sono risposte che si aspettano i cittadini i cittadini si aspettano più sicurezza più ricchezza più possibilità di sviluppo più studio più sanità questo vogliono i cittadini di una nazione e gli elettori fanno i politici fanno il contratto con i propri elettori non lo fanno con l'umanità con la terra o con le altre persone e quindi ne rispondono direttamente